Una regola di civiltà o di buona educazione dice che non bisogna parlare male delle persone che ci hanno aiutato, cioè non è giusto spezzare il piatto dopo che abbiamo mangiato. Quindi io dovrei parlare bene del Festival di Cannes perché qualche mio film c'è stato e mi ha fatto piacere. Quindi io ne parlo bene, per carità. Ciò non toglie però che quando trovo un regista che ha fatto cinque film in cui tre sono stati in cui ha preso tre volte i premi a Cannes, ha preso due candidature all'Oscar, due premi a Venezia, tutto questo nel giro di quattro o cinque anni un certo sospetto di intellettualismo mi viene, anche perché questi film si intitolano i denti canini, la ragosta o il sacrificio del servo sacro, cioè anche argomenti e situazioni particolari strane, quindi forse affetti da un po' di intellettualismo, di cerebralismo. Pur avendo visto questi film e avendoli apprezzati, non ho mai pensato che in realtà potessero trascinare il pubblico dato che sono molto particolari, alcuni addirittura sperimentali. Quindi è con grande sorpresa e anche con apprezzamento e stima che ho visto l'ultimo film di Orgos Lantimos che si chiama La Favorita. Mi aspettavo anche in questo caso qualcosa di surreale, di sperimentale, di forzato, di estremo, di intellettualistico, tutto questo in una confezione di alto livello professionale, di grande qualità, però finora per tutti i suoi film si sono spiegati aggettivi come cubrichiano oppure come kafkiano, situazioni in cui la verità non è che trascinano il pubblico, ma che servono soprattutto a una certa élite che si commuove per certi giochi mentali, per certi rocamboleschi intellettualismi, per certi labirinti della mente e della visione, però il succo filmico poi in realtà c'è sempre il rischio che non arrivi al grande pubblico. Invece sulla Favorita questo regista è stato straordinario perché ha presentato un affresco con una forza, con una fastosità, con una crudezza, con una verità veramente attravolgente. Certo, ha un cast di ottimo livello, Olivia Colman che è stata due volte Golden Globe, c'è Emma Stone che chiaramente ha preso due Oscar, una come attrice non protagonista e una come protagonista per Anna Land e che tutti i grandi pubblici ricorderanno anche in Spider-Man. C'è Rachel Weisz, bellissima e straordinaria attrice inglese, perché anche lei ha un Oscar come non protagonista, quindi un cast di donne di tutto rispetto, ma questo immerso in un'atmosfera storica, 1700 circa, di grande fasto, di grande bellezza, ma soprattutto di grande verità. È molto differente della Maria Antonietta di Sofia Coppola, per esempio, dove la situazione è edulcolata, diciamo sotto certi aspetti quasi hollywoodiana, ovattata sotto certe forme. Qui invece siamo più vicini a Freer's, al famoso film tratto dall'opera di Laclau, il quale gioca esattamente sulle perfidie e sugli interessi, sugli egoismi e sulle ambizioni di una corte. è la corte di Anna, regina d'Inghilterra, l'ultima regina degli Stuart, credo dal 1700 fino al 1714, che riunisce le due corone di Inghilterra e di Scozia in una sola corona e che riesce a tenere in piedi l'Inghilterra nonostante che sia divisa dai primi esperimenti di bipolarismo, i Whig e i Tory, i due partiti liberali e conservatori, liberali per dire, in ogni modo per l'epoca erano liberali, tramite le intrighi e le trame, potrei dire, proprio di Sarah Churchill. Sarah Churchill, che non a caso è l'antenata di Sir Winston Churchill, e la bravura e l'abilità di Sir Winston Churchill si possono capire benissimo, oltre che per i suoi ameri, certamente anche per questa ascendenza che ha con una donna che è stata praticamente la confidente e la regina occulta d'Inghilterra per tanti anni ed è stata capace di portare l'Inghilterra che ha dei fasti straordinari proprio con la sua forza di carattere e con la sua decisione, ma, come succede sempre, l'ambizione poi esagera e di conseguenza il momento in cui trova qualcuno, diciamo tutti i certi aspetti, peggiore di lei, più abile, più sottile, più apparentemente modesto, e in questo caso è la cugina Abigail, la quale è praticamente una cugina povera che addirittura la comincia quasi come domestica, ma riesce prima tramite Sarah e poi tramite la sua abilità a incunearsi fra lei e la regina e diventare lei la favorita della regina. Ecco, questa lotta tra le due donne con due estrazioni diverse, con due mentalità diverse, con una terza donna al centro che è la regina Anna, la quale si divide fra le due ed è, diciamo così, rapita sia dai modi duri, decisi, spietati di Sarah, sia dai modi vellutati, sottili di Abigail. In ambedue i casi sono tre donne che lottano per il potere in un mondo che era assolutamente maschilista e dove il potere era concentrato nelle mani degli uomini in maniera totale e assoluta. Invece queste tre donne con la determinazione e l'intelligenza che le donne hanno sempre avuto, nel momento in cui vogliono qualcosa, nel momento in cui si tolgono di dosso gli schemi di una società che cerca di soffocarli, ma riescono a liberarsi, dimostrano la loro capacità, sia in negativo che in positivo, dimostrano sicuramente la forza, il coraggio, la decisione, la determinazione, la lungimiranza, l'intuito, tutte capacità straordinarie che talvolta agli uomini mancano, ma che fortunatamente a loro no. È una delle ragioni per cui è bello averle come compagne, è bello amarle ed è bello essere amate da loro. Grazie. Grazie.